Scatteranno a partire da domani le multe per tutti gli over 50 non ancora in regola con l'obbligo vaccinale in vigore da qualche settimana. In Abruzzo sono migliaia le persone che riceveranno una multa per una tantum da 100 euro da parte dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver incrociato i dati tra le residenze e gli elenchi vaccinali. Gli ultracinquantenni che lavorano inoltre hanno tempo fino a domani per la prima dose, così da ricevere in tempo il Super Green Pass che dal 15 febbraio per loro sarà obbligatorio sul posto di lavoro, pena la sospensione senza stipendio. In Abruzzo adesso il punto preciso è difficile farlo, anche perché molti di questi si sono positivizzati, per cui avere il dato certo è difficile. Sicuramente ce ne sono ancora diversi che si devono vaccinare, gli hub sono aperti, la possibilità di andare senza prenotazione c'è, ma già nella giornata di ieri si è registrato un numero, non dico discreto, ma sufficiente di prime dosi di 50 anni, un po' così a macchia di leopardo. Però è chiaro che bisogna vedere e poi verificare quello che accadrà già da domani. Oggi ancora c'è questa possibilità, ripeto, col fatto che molti sono positivizzati, diventa difficile fare un calcolo preciso, perché poi ci sono ancora due settimane per quanto riguarda poi l'attività lavorativa, per cui insomma vediamo poi nelle prossime due settimane probabilmente che cosa succederà e se, diciamo come dire, chi ancora non ha fatto la prima dose si recherà negli hub a vaccinare. Noi abbiamo fatto tutto quello che era delle nostre possibilità, insomma anch'io l'invito agli over 50 che comunque restano una categoria ancora a rischio per quanto riguarda il Covid e il rischio di andare di animazione e di venersi a vaccinare. Insomma è un appello che faccio un po' a tutti, ma in particolare in questo caso agli over 50. E' soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi? Io direi di sì, insomma l'Abruzzo è fra le regioni che hanno meglio lavorato per quanto riguarda la vaccinazione, sia come prime dosi, anche adesso come terze dosi, siamo fra i primi d'Italia, abbiamo in questo anno raggiunto anche i primati importanti, se questo possono avere un valore, ma quello che ci interessa è che abbiamo una percentuale molto alta in linea con quella a livello nazionale, per alcuni versi anche superiore per quanto riguarda il numero di vaccinati.